Il fascino, dal 1999 ti veste con eleganza. Oggi puoi trovare un vasto assortimento nell'ampio e nuovo showroom in corso Carlo Maria a Marina di Gioiosa Ionica. Le marche più prestigiose di abbigliamento, intimo e mare per soddisfare ogni tua esigenza. Per il tuo evento scegli il fascino, abiti eleganti da cerimone o casual per ogni giorno. Il fascino, l'eleganza, con stile. Ci trovi a Marina di Gioiosa Ionica in corso Carlo Maria numero 67.